La notte bianca a Sulmona non si farà. Lo ha comunicato sulla rete sociale di Facebook l'associazione Dreamon che aveva intenzione di organizzare per il prossimo 5 settembre un sabato rosa di Sulmona con particolare partecipazione delle artisti di strada. Sono dispiaciuto, spiegano da DG Manuel Di Camillo. Avevamo ottenuto anche riscontro di alcune attività commerciali che erano disposte a collaborare economicamente, abbiamo trovato difficoltà a reperire i fondi e non ci sono i tempi tecnici per la copertura burocratica dell'evento. Ci auguriamo il prossimo anno di essere presso in considerazione. Il dispiacere per la mancata Kermesse è stato condiviso sempre su Facebook da parecchi utenti. Ad assicurare l'interesse del comune per la manifestazione era stato nella rubrica social Unocchio per Tutti l'assessore Luciano Marinucci. Sono particolarmente soddisfatto che questo gruppo di giovani voglia investire in città. Mi impegnerò fin d'ora perché prossimo anno nel bilancio comunale siano destinati i fondi alla notte bianca, assicura l'assessore. Quest'anno ho dovuto chiedere una variazione di bilancio per il festival del Montagno in Gets, per la notte dei talenti dove saranno protagonisti sempre giovani e per la Kermesse di estate e sport, spiega Marinucci. Ritengo che a Sulmona nei prossimi giorni non mancheranno vivacità e aggregazione perché sono previsti le grandi eventi. Per quanto concerne la notte bianca, chiosa l'assessore, lavoreremo il prossimo anno al fianco dei giovani, senza dimenticare però che anche le attività produttive devono fare la loro parte.